A Match It Now piove di sacco, Jasmine Favero, campionessa mondiale nel 2014 di arti marzialimiste e anche lei allieva di Combat Academy. Allora Jasmine, sei salita anche tu sull'ambulanza, come sono stati con te i volontari ADMO e tutto quanto il personale sanitario? Sono stati molto gentili nei miei confronti e niente, cioè... Hai avuto tutte quante le informazioni di cui avevi bisogno, come valuti questa esperienza? La valuto un'esperienza molto bella nei confronti di chi poi aiuto, perché mi piace aiutare la gente e la valuto molto bella come esperienza. Quindi diciamo a tutti quanti i tuoi coetanei che ci stanno seguendo ora quanto orgogliosa sei di essere qui quest'oggi nonostante la pioggia? Sono molto orgogliosa, sì. E allora cara Jasmine, speri di essere tu la tipa giusta? Spero di essere la tipa giusta. Sei la tipa giusta! Spero di essere la tipa giusta!